Il giorno della resa dei conti Il giorno di terminator Creati per ammientare la razza umana E la nostra ultima speranza nella guerra contro le macchine Sarà uno di loro Tutti i sistemi militari sono stati infettati Ma che sta succedendo? Il giorno del giudizio, la fine del mondo È oggi da qui a tre ore Oddio Le macchine stanno cominciando a prendere il suo pavento Qual è la tua missione? La mia missione è proteggervi Allora la tua missione sta per fallire Terminator 3 Le macchine ribelli È giunta l'ora La mia missione è proteggervi Grazie a tutti